iniziamo con merenda di nuova generazione 2009 produzione by andrea meluca ingredienti per questa merenda sono un cono gelato da 2 euro comprabili in qualsiasi cona cucchiai che se ne frega un barattolo di nutella pieno di nutella un pacco di questo zolletto di zucchero un barattolo di nesquik nesquik è un polvere delle kitty e come finale un tocco d'arte e un cereale preso da un barattolo di cereali iniziamo ma dormi basta infilare ecco bravissimo leggermente che mi sa che tra un po morirò specificiamo che lui oggi deve andare al mare tra poco lo vuole andare al mare così insomma sta bene dopo si si questa forma di andrea ah guarda qui bello mi serve qualcosa per mandare giù è uguale carica rudemente dio sai che non lo finisci vero mi sa mai basta allora aspetta facciamo a modo gelato sennò qui non si va più via si vede che faccio l'alberghiera ma guarda si vede proprio zollettina un bello zolletto di zucchero infilata proprio dentro proprio qua contorno di questo zolletto di zucchero non so come ho fatto trovarlo davvero qui se la cade se si sta giù mi inchiune non lo devo usare io non fa niente così tattran bravo come tocco d'arte anche il cereale io direi di mangiarlo ma lo mangi come si un po' 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 come è? buono che schifo insomma stai bene tu se vuoi prendo una cabina completa di cesso toilette tutte quelle madonna varie buono ah colesterolo a manetta complimenti